40 extracomunitari di origine nordafricana sfruttati nelle campagne per la raccolta delle arance sono stati fermati dai carabinieri della compagnia di Sciacca. Avevano occupato abusivamente alcuni fabbricati comunali di Ribera, Travia Tevera e Biarno e vivevano in pessime condizioni di degrado igienico-sanitario con allacci legali alla rete elettrica cittadina. I carabinieri hanno accertato che la gran parte degli extracomunitari erano clandestini. Nei loro confronti sono scattate le procedure di espulsione mentre che aveva già la notifica dell'espulsione è stato arrestato. Gli inquirenti lavorano per identificare gli imprenditori agricoli che sfruttavano gli immigrati e sempre sul fronte dell'immigrazione clandestina i poliziotti della squadra mobile di Agrigento hanno arrestato tre cittadini extracomunitari di 47, 36 e 41 anni. Grazie a tutti.